Radio Italia 5, la radio che si vede. Simone Fracassi è venuto a trovarci qui nella redazione di Radio Italia 5 per presentarci un grandissimo evento enogastronomico Italian Cuisine dal 18 al 20 giugno sarà il fiore all'occhiello del casentino. Di cosa si tratta Simone? Italian Cuisine in the world perché noi ci rivolgiamo a tutto quello che è di italiano sulla tavola cibo e bevande, compreso il vino naturalmente però fuori dall'Italia quindi porteremo tanti amici, tanti ambasciatori dell'Italia del gusto in giro per il mondo in casentino e li faremo anche confrontare con i nostri ristoratori, con i nostri chef arriveranno pizzaioli da Glasgow, da Parigi, da Pechino arriveranno da Napoli, dalla Sicilia, dalla patria della pizza avremo pizza napoletana, pizza gourmet, pizza la pala avremo una serata, anzi due, a Bibbiena il 18 e il 19 ma solo dalle 20 alle 24 perché? Perché dalle 20 alle 24 perché il 18 e il 19 in piazza Rassina ci sarà un mercato, un mercato con tanti amici per festeggiare anche i 90 anni della mia attività tanti amici provenienti dalla Puglia, dalla Basilicata, dal Piemonte, dal Friuli che vi faranno scoprire cose che magari in Casentino, in provincia di Arezzo o comunque ora vengono chiamate nicchie perché sono poco di produzione cose vere dell'Italia, persone vere dell'Italia e cibo vero dell'Italia è questo che vogliamo trasmettere anche ai nostri amici che vengono dall'estero perché in questo modo possiamo far accrescere l'economia dei piccoli produttori veri italiani come accennavi la particolarità di questo evento è anche che sarà un po' itinerante nel Casentino hai parlato di Bibbiena, anche di Rassina, ecco quali saranno anche gli altri luoghi protagonisti di questo evento beh, cerchiamo di far conoscere il Casentino ai nostri ospiti e portando il vino nel castello, qui a Poppi portando il forum dove andremo a disquisire del perché facciamo tutto questo perché vogliamo raggiungere un obiettivo che in tre anni ce lo siamo proposto questo vale a dire dichiarare la cucina italiana fuori dall'Italia patrimonio immateriale dell'UNESCO e lo faremo al Palazzo Fiorentino di Stia naturalmente poi arriva il momento di capolavori a tavola che ormai è la sedicesima edizione ci ritroveremo come fosse una grande festa a Borgo Corsignano che è un borgo della famiglia Lori che da sempre accompagna questo evento e che ha fatto scoprire a tante persone che esiste un Casentino, un Casentino vero e che è rappresentativo in questo momento di ciò che è stata l'Italia e di ciò che è l'Italia in ogni sua piccola sfaccettatura in ogni piccola valle da nord a sud, da est a ovest l'Italia è piccola e l'Italia è anche bella e allora abbiamo capito che questo momento culinario per ogni buona forchetta ma non solo sarà davvero imperdibile allora Simone l'appello a tutti i turisti culinari diciamo così i gourmet se ce la fanno si devono prendere i tre giorni perché è ben articolato e ci sono i tempi anche per spostarsi da paese a paese ogni paese dista 5 km quindi è semplice il consiglio è arrivare verso le 17 a Rassina in piazza Mazzini alle 20 spostarsi in piazza Tarlate a Bibbiena la domenica e lunedì sera la mattina del lunedì essere a Ponte a Poppi scusate al castello e cercare di degustare il vino come si fa? Basta arrivare al castello pagare l'ingresso dei 5 euro per visitare il castello e trovarsi magari 12 postazioni di buoni veri vini e questo ci siamo arrivati adunque martedì mattina belli riposati al Palazzo alle 10 e mezzo ci sarà la Federazione Italiana Cuochi con 9 chef provenienti da 9 province toscane che ognuno di loro farà un piatto un piatto della tradizione anche questo per chi partecipa per chi arriva al forum sarà a disposizione naturalmente si concluderà tutto a capolavori a tavola ci tengo a precisare che grandi chef con stelle Michelin grandi operatori che sono i ristoratori del territorio si sono adoperati per far sì che si possa raggiungere un obiettivo anche economico da dedicare alla fondazione il tutto per informazioni basta portarsi 10 euro in piazza Bibiana la sera e invece per capolavori a tavola basta andare sul sito www.italiancuisine.word oppure il sito capolavoriatavola.it trovate tutte le informazioni per poter segnarvi iscrivervi e prenotare per capolavori a tavola questo importante evento viene presentato in una conferenza stampa in provincia di Arezzo e c'è quindi anche una volontà di allargare in qualche modo la collaborazione per questo tipo di evento? L'idea è che il Casentino rappresenti un po' un simbolo dell'Italia poi noi abbiamo scelto di fare la sede dell'associazione che promuove tutto questo evento e possibilmente della fondazione in Casentino proprio per scegliere un'area che possa rappresentare tutta l'Italia ovviamente poi essendo un discorso internazionale essendo un discorso italiano ci saranno anche altri posti però il Casentino rimarrà un poco sempre nell'immaginario come il posto dal quale nasce questa iniziativa quello che facciamo adesso in questa occasione è riunire praticamente una specie di stati generali della cucina italiana verranno un centinaio di cuochi e ristoratori e Cali Night Professionals dal mondo insieme con molti cuochi rappresentativi e ristoratori rappresentativi dell'Italia abbiamo preso al volo la possibilità di fare questo forum in occasione di un grande evento italiano che si chiama Capolavori a Tavola promosso da Simone Fragassi, casentinese doc e praticamente la persona che ha messo il Casentino dal punto di vista enogastronomico sulla mappa come si dice e tutti insieme faremo questo primo passo per chiedere all'UNESCO di riconoscere la cucina italiana fuori dall'Italia come patrimonio dell'umanità è una cosa molto importante perché gli italiani prima con gli emigranti poi con i cuochi e poi con le abitudini hanno cambiato la maniera di mangiare di molti paesi a cominciare dagli Stati Uniti la Germania, l'Inghilterra ora la cucina italiana è diventata patrimonio anche di quelle nazioni e bisogna fare qualcosa per proteggerla o perlomeno per tracciare la presenza in tutti i continenti grazie